Il Catania mette sul campo cuore e grinta e vince la sua quarta partita casalinga consecutiva. Tra i segni più, impossibile non citare il capitano Marco Biagianti. Il numero 27 ancora una volta ha dimostrato un forte attaccamento alla maglia, lottando in campo con unghie e denti dal primo fino all'ultimo minuto e incitando i propri compagni, ogni qualvolta i rossazzurri ostentavano cali di concentrazione. Se a questo si aggiungono un gol e due assist su tre reti messi a segno dal Catania, allora è facile parlare di Marco Biagianti come il migliore in campo. Segno più anche per Mazzarani, il calciatore arrivato a parametro zero a campionato in corso, sta lavorando per raggiungere quanto prima la forma fisica migliore. Rigoli se lo coccola anche se non è ancora al 100%. Damezzala lo ha spostato a esterno d'attacco per evitare gli eccessivi lavori difensivi. Il 27enne ha risposto presente e contro i calabresi ha anche trovato la prima marcatura con addosso alla maglia rossa-azzurra. Segno meno invece per la coppia di difensori centrali. Sia Drauso che Bergamelli salteranno la prossima giornata di campionato contro la Virtus Francavilla a causa dei rossi rimediati nel 3-1 al Catanzaro. Per Bergamelli la decisione presa dal direttore di gara è stata forse eccessiva, in quanto al centro di una mischia che ha coinvolto quasi tutti i giocatori in campo. Nessuna giustificazione invece sulla rete di Tavares lasciato colpevolmente solo in mezzo all'area di rigore dal numero 3 rossa-azzurro. Il segno meno a Drausio invece per l'ingenuità avuta in occasione dell'espulsione che ha macchiato una gara fillì sufficiente. Brutta e soprattutto pericolosa la palla persa davanti la propria aria che lo ha costretto dopo a commettere un brutto fallo sul numero 7 calabrese Kunzi in volata solitaria verso la porta difesa da Pisseri.